Olio Provenzani dalla Sicilia, provincia di Agrigento. Provenzani si dedica alla produzione di extravergine di qualità da ben tre generazioni. Gli olivetti si estendono nel cuore della Sicilia agricola, su quelle colline verdi dell'Agrigentino che furono il feudo dei principi Tomasi, le celebri tenute di Donna Fugata narrate nel romanzo del Gattopardo. Per Provenzani da sempre è fondamentale esprimere e valorizzare l'identità siciliana in ogni suo prodotto, esaltando principalmente la Valle del Gattopardo e la Biancolilla, a sua cultivar d'elezione, così come altre varietà che rappresentano il territorio, come la Nocellar, la Cerasuola e altre autoctone dell'isola siciliana. Abbiamo già degustato i loro oli, adesso abbiamo la nuova spremitura. Il Family Blend, olio di elevatissima densità, aroma erbaceo e delicatamente speziato, ideale a crudo, adatto su minestre di legumi, carni rosse e piatti vegetali. Il Biologico, varietà Biancolilla, aspetto verde brillante con densità media, aroma di pomodoro verde, cicoria, origano, adatto a piatti a base di cruditè, carpacci e primi di pesce in generale. Poi abbiamo la Sicilia IGP, dalle varietà Cerasuola e Biancolilla, un colore verde con striature dorate, un gusto fruttato con note di pomodoro verde, carciofo e cardo, ideale per piatti di carne, verdure e insalate. Tra gli aromatizzati abbiamo l'olio e tartufo, a partire dalle varietà Biancolilla e Cerasuola, appunto con l'aggiunta di tartufo. Quindi un'ampia gamma che può spaziare dalle verdure alle minestre alle carni e ai pesci e ci può veramente esaltare ogni piatto. Qui noi stiamo adesso degustando il Family Blend, che ricordiamo olio di grande densità, un aroma erbaceo delicatamente speziato e un colore verde intenso, ideale come dicevamo a crudo, adatto su minestre di legumi, carni rosse e piatti vegetali proprio per andare a esaltare questo suo aroma erbaceo che a sua volta esalta questi piatti. Olio Provenzani dalla Sicilia con furore.